Ci troviamo in località Pantane qui a Villa Celiera e queste sono le porte del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga qui nell'area Vestina, un luogo molto apprezzato dai tanti turisti soprattutto in estate quando ci sono dei bellissimi percorsi di trekking ma anche in inverno quando c'è la neve e si possono effettuare delle bellissime passeggiate con le ciaspole o addirittura con gli sci da fondo. Il sindaco Domenico Vespa fa partire il proprio messaggio sia alla provincia che alla regione perché quest'area ha bisogno di più servizi se vuole essere sviluppata. Il messaggio è stato lanciato durante il tavolo tecnico svoltosi nella sala consigliare del comune di Villa Celiera a cui hanno partecipato i comuni di Civitella Casanova, di Carpineto della Nora e di Ofena e Castel del Monte all'incontro presenti anche i tecnici dell'ente Parco ed il presidente della provincia di Pescara con l'intento di trovare soluzioni idonee per garantire la sicurezza degli utenti, creare apposite aree di sosta, garantire la manutenzione ordinaria e sgombero neve e proporre nuove strategie per la valorizzazione di un'area che negli ultimi anni sta facendo registrare boom di presenze ad ogni fine settimana. La certezza è quella che io sono convintissimo che in questi paesi possiamo continuare a vivere ma soprattutto possiamo continuare a viverci bene e l'altro è la speranza che possiamo veramente riuscire a valorizzare questo nostro comprensorio. L'abbiamo già visto con l'inaugurazione del Voltigno Trail Center e soprattutto quest'inverno con il centrofondo Voltigno veramente possiamo puntare ad un'economia alternativa, un'economia veramente basata sul turismo. È chiaro che poi non si possono costruire le cattedrali nel deserto, cioè nel senso che comunque quell'area deve essere accessibile, deve essere non solo accessibile ma deve essere anche sicura e questa è la cosa che chiedo come elemento essenziale, lo sviluppo di un'area che non è soltanto lo sviluppo di un'area ma è lo sviluppo di una parte della regione che potrebbe dare lustro alla regione Abruzzo. La provincia deve avere un ruolo importante affinché questi territori sviluppano, anche se non abbiamo più la competenza del turismo, però possiamo aiutare le amministrazioni affinché danno sviluppo e sostegno ai propri territori. Andremo a completare il pacchetto di offerta mare-montagna perché questa è la parte più bella della montagna della provincia di Pescara e va valorizzata e va promossa in una maniera giusta e opportuna.